Venerdì 3 febbraio al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma ci sarà un vertice per decidere le sorti della fabbrica vicola di Monteverde di Boiano. Il gruppo aggiudicatario romagnolo Amadori pone condizioni certe che le maestranze della GAM vorranno chiarire domani nel corso dell'Assemblea dei lavoratori personale che lavora per un documento di indirizzo con la parte sindacale senza alcuna delega in bianco. Gli operai chiedono infatti il loro consenso a qualsiasi firma. La vigilia dell'Assemblea non può che essere tesa. L'azienda Amadori chiede ai sindacati l'accordo definitivo mentre le parti sociali prendono tempo. L'incubatoio della GAM potrebbe riaprire solo verso la fine del 2017 con non più di 35 unità a ventizie e contratto del settore agricolo. I tempi del macello saranno invece ancora più lunghi. Si parla infatti di oltre tre anni prima della sua riapertura. La strada per l'ex arena è ancora irta e piena di insidie. Tutte le parti in causa chiedono chiarezza di intenti e disponibilità per evitare clamorosi condensiosi in sede di Tribunale. Domani a Boiano e venerdì a Roma si conosceranno altri passi sulla intricata vicenda.